SORRISI Sorrisi che aiutano il rinascere della speranza in Calabria, corbici per tagliare e poi ricucire un domani più sereno. E sono quelle con cui il ministro Salomone apre a disca marina il mido d'infantia C. Questi da grandi troveranno lavoro. Pingui, olive si frangono sotto la mola, in questa terra così buona quando è buona. E tanto più va difesa contro le ingiurie delle alluvioni. A Serra San Bruno il sindaco saluta il ministro che promette un concreto programma per impedire il periodico ripetersi dei danni. E distribuisce indumenti di lana ai piccini di Ragonà e Nardo di Pace, luoghi tra i più colpiti. Oggi hanno da coprirsi, al più presto riavranno le loro case.